8 persone sono state arrestate con l'accusa di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, e alla truffa aggravata per il conseguimento di finanziamenti pubblici. Tra loro anche un ex consigliere comunale, Ignazio Cozzoli, eletto nelle fila della lista Marchini poi passato a gruppo misto, e decaduto nel marzo scorso dopo il riconteggio delle schede, che ha assegnato il seggio al PD. Grazie a tutti.